Ha adottato il suo quartiere Giordano Cadorna, bellendolo e Nino infermiere. Abita in via degli Aceri, lì c'è un parchetto, ha fatto alcune sculture, è un creativo perché ha dipinto anche dei murales. Guardando questo giardino mi è venuta l'idea di mettermi in gioco e dare un mio contributo civico per migliorare l'aspetto di questo giardino. E così pian piano ho iniziato a piantare dei fiori, ogni tanto tenevo pulito il giardino togliendo le carte, le plastiche. Poi ho iniziato con i rami che avevo tagliato, così a fare queste piccole decorazioni, queste sculture. E' quello che io spero, che questi piccoli gesti possano estendersi ad altri cittadini, in altri tanti quartieri della città. Poi c'è il pensionato Bruno che ogni mattina perlustra le vie del quartiere armato di pinze e secchiello. Cerco da tenere pulito, che comunque è una guerra persa, perché c'è un'inciviltà che non si butta. Ho appena mandato via, 5 minuti fa uno con un furgone, aveva su 4 secchi di inerti, cioè calci con la roba. Lì vuole buttarlo nel cestino, no, se lo butti prendo la tappa. E' andato via arrabbiato, calma, scusa, vai in discarica, no, calma. Cartacce, lattine, mascherine, soprattutto mozziconi, che è la roba principale, bottiglie, c'è di tutto e di più. E buttano la roba lì e c'è il cestino lì, non è... E ce lo dice a uno, vabbè cosa c'è, calma, vabbè come cosa c'è, se tutti facciamo così ma in casa tua fai così, non lo so.